Ora 21.57, siamo arrivati purtroppo alla fase dei primi saluti e dei mostri Perché comunque Simone è stata una bella scoperta Perché te i party dici non sai mai cosa puoi trovare di fronte invece Hai trovato mille cose di fronte Ma avremo altre mille domande, magari lo richiamiamo in futuro per stare qui con noi a fare ogni tanto qualche imitazione Ma la cosa importante a questo punto è se qualcuno ti vuole seguire, se qualcuno vuole venirti a trovare durante i tuoi spettacoli Dove ti viene a può cercare? Ora intanto la mia pagina ufficiale su Facebook con tutti gli eventi aggiornati Nello specifico io da diverso tempo sto facendo vari spettacoli Il bellissimo ristorante Pizzeria Pepita San Matteo della Decima invece c'è da 16 E nello specifico sabato 5 aprile, ripeto sabato 5 aprile Tutti al ristorante Pizzeria Pepita di San Matteo della Decima dove faccio il mio show E ci sarà della bellissima musica live e karaoke con Antonio Coccia, sosia e cantautore Sosia di Luca Carboni e cantautore E Dani, quindi una bellissima serata, musica karaoke E il mio show, al pepita Hai finito di mettere il manifesto che non si capisce Tutte le mani mi bambiscono dalla regia, mi cambiano le telecamere E io cosa vuoi che faccio Quindi sabato 5 aprile, al pepita San Matteo della Decima Potete trovare Simone Meridini, Antonio Coccia e Dani Venite numerosi, numerosissimi Io voglio solo di segnalare invece il 21 marzo, quindi venerdì Questo venerdì Questo venerdì al pepita, c'è sempre un ta Non c'è, ce la puoi fare? Aspettate, così Oh, ce l'abbiamo fatto, vedi? Una serata karaoke condotta, di solito la conduci te, è vero? Sì, in questo caso non ci sono io, ma ci sarà una bravissima cantante Che farà musica, comunque ci sarà karaoke Venite al pepita anche questo venerdì, 21 marzo Venite sempre al pepita Pepita talento Invece, chiedete l'amicizia a Simone su Facebook e chiaramente lui l'accetta E da lì potete vedere tutte le sue date E sul mio YouTube, canale YouTube, tantissimi video È vero, è vero, c'è un canale di YouTube che è ricchissimo di video Simone Merini Official Seguitelo, seguitelo perché è veramente importante e divertente Grazie per essere qui a voi Grazie a Simone, grazie Simpaticissimi Buona serata